La protezione delle mani nel trail running è fondamentale. Il prodotto che più utilizzo nelle mie corse è il Lavaredo Glove, che è un prodotto, come si può vedere, molto comprimibile, traspirante e molto leggero. Un accessorio fondamentale è questa moffolina, fatto con una membrana impermeabile, che oltre a proteggere dall'acqua è anche ottimo come antivento. In condizioni di freddo un po' più estremo, un altro prodotto che utilizzo è il Polartec Glove, che dà un ottimo isolamento termico e nello suo tempo garantisce una buona traspirabilità. In condizioni però meteorologiche un pochino avverse, con pioggia e nello suo tempo un freddo vento gelido, può essere abbinato con il Lavaredo Rain Meat, che si tratta di una moffolina totalmente impermeabile, con al suo interno anche le buciture termonastrate, che può essere indossato tranquillamente al di sopra di un qualsiasi guanto, garantendo un'ottima impermeabilità. Da non dimenticare che questo accessorio possiede i requisiti richiesti all'interno di alcune gare, come ad esempio il Tour de Jean.